Cordiali colloqui stamane in Vaticano tra il Papa e Draganakovic, membro croato della presidenza collegiare della Bosnia e Herzegovina, che successivamente ha anche incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. La situazione del Paese dopo le devastanti alluvioni della primavera scorsa è stata al centro del colloquio, un particolare riferimento anche al contributo dei cattolici nell'edificazione della società e al loro impegno nella ricostruzione. Nell'esprimere soddisfazione per le buone relazioni bilaterali sono stati poi affrontati alcuni temi relativi all'applicazione dell'accordo di base del 2006 che disciplina i rapporti e la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per il bene comune. Spazio anche ad alcune problematiche dell'attualità regionale e internazionale.